Musica Prenderà il via il 25 novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri il progetto Le donne in Dante promosso dal centro pari opportunità della regione Umbria in collaborazione con l'associazione operatori del parco del Montecucco Nel progettare questo progetto Umbria Paradiso di Dante ho potuto approfondire vari temi uno dei temi importanti che mi ha molto colpito è il ruolo delle donne nella Divina Commedia quello che Dante riconosce in un'epoca in cui le donne non avevano quasi nessun diritto tranne forse le nobili che venivano usate come merce di scambio per motivi di dominio e di apparentamenti utili quindi che cosa ho pensato? Ho pensato che queste donne di cui Dante ci parla potessero essere una bella testimonianza uno spunto per parlare della violenza contro le donne che avviene oggi vogliamo fare qualcosa con queste figure femminili di cui ci parla Dante? trovare uno spunto per attualizzarle e quindi la grandezza di Dante in questo che in qualsiasi dei suoi aspetti oggi è più che mai vivo Dante è stato un antesignano riguardo al riconoscimento del ruolo e della dignità della donna già 700 anni fa 700 anni fa quando la visione ovviamente della donna era una visione molto molto limitata e molto parziale e lui invece già nel suo poema dantesco citando le donne che avevano subito violenza da Pia de Tolomei a Francesca da Rimini la stessa Santa Lucia e in un qualche modo ne voleva riconoscere quella che era la loro valenza, la loro dignità quindi questo per noi è stato motivo per chiudere questo anno abbiamo visto proprio questo nesso all'interno della nostra regione, una regione che è impegnata anche da un punto di vista culturale chiudere questo anno dedicato appunto al settecentenario della scomparsa del sommo poeta con quello che è il tema della violenza di genere e noi lo abbiamo in qualche modo accolto come staffetta per aprire invece questo progetto che riprende la rete dei comuni umbri che a questo progetto hanno aderito e che continuano in una nuova versione ad aderire ad una rete regionale questa volta però centrato sul tema della violenza sulle donne l'Assemblea del Centro Pari Opportunità ha approvato questo progetto che non si fermerà soltanto al 25 novembre anzi prenderà la giornata internazionale della violenza contro le donne come inizio, come inaugurazione di questo periodo che si concluderà l'8 marzo quindi avremo tutta una serie di programmi, di iniziative, di manifestazioni che coinvolgeranno i comuni umbri proprio per tenere accesa l'attenzione, la luce sulla tematica della donna e in particolare sulla violenza contro le donne Ripartirà una staffetta dal 25 di novembre fino all'8 marzo in cui tutti i comuni proporranno degli eventi, delle manifestazioni diverse, quindi spettacoli per tenere aperto un faro, sempre acceso un faro, sulla posizione della donna e finalizzato soprattutto a creare una coscienza Il tema della violenza sulle donne è un tema profondo che ci colpisce anche perché i dati che ci vengono attualmente dal Ministero dell'Interno esattamente un report del servizio analisi criminale Interforze ci dice che dal 1 gennaio del 2021 al 17 ottobre, quindi parliamo di poco più di un mese fa attualmente le donne vittime di violenza sono 95 81 di queste sono state direttamente uccise da un partner o comunque da un familiare e se potremmo dire che in generale gli omicidi anche durante il 2021 sono in diminuzione purtroppo il fenomeno del femminicidio è quello che è in crescita più del 3% quindi vengono purtroppo questo è un fenomeno che sembra inarrestabile pertanto il Centro Pari Opportunità sta lavorando anche attraverso questo progetto che ha il progetto che le donne in Dante vuole in realtà però creare questa rete tra i comuni per tenere alta questa attenzione il Centro Pari Opportunità è l'organismo di parità che nello statuto regionale numero 62 concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente all'eliminazione delle disparità dei sessi e alla promozione delle politiche di genere è stato istituito nel 2009 e nel 2016 successivamente con una legge regionale sono stati attribuiti al Centro Pari Opportunità dei nuovi compiti nel maggio del 2021 abbiamo fatto una proposta di modifica di legge alla legge del numero 23 del 28 novembre del 2003 sulla assegnazione degli alloggi popolari alle donne vittime di violenza con figli a carico questo è stato poi successivamente accolto dalla Regione che quindi riconosce dei punteggi attributivi ulteriori alle donne che hanno subito violenza e la finalità di questo nostro intervento è proprio per restituire autonomia, dignità e speranze alle donne che vivono queste situazioni che molto spesso non hanno luoghi dove poter andare e soprattutto che hanno figli che molto spesso vivono quella che è la violenza assistita una delle più gravi tragedie che è collegata alla violenza diretta sulle donne attualmente noi abbiamo anche fatto un'ulteriore proposta addirittura proprio per una promozione culturale per un'attenzione nei confronti della violenza sulle donne abbiamo fatto un'ulteriore proposta alla Regione cercando di titolare delle vie o delle piazze alle vittime del Circeo Donatella Colasanti e Rosaria Lopez questa attenzione su donne che hanno subito una violenza così efferata possa comunque rimanere nella memoria delle persone dovremmo noi penso riuscire a incidere sulla causa più che sull'effetto perché la violenza è il punto d'arrivo di una serie di cose che sono deviate quindi se noi riuscissimo a insegnare fin dalla più tenera età il rispetto per la donna ma per tutti ai ragazzi e una maggiore sicurezza in sé nelle ragazze quindi il saper riconoscere anche le persone diciamo pericolose tra virgolette ma che abbiano un carattere magari un po' possessivo o comunque negativo questo penso che potrebbe aiutare moltissimo a ridurre il fenomeno e questo penso che la cultura in questo potrebbe aiutare moltissimo e come sempre la cultura ci salva grazie a tutti